Sì, abbiamo detto questa settimana che dobbiamo tirare fuori qualcosa di meglio rispetto a prima e abbiamo fatto questo stasera con pochi errori e abbiamo proprio lavorato sul cambio palla, sulla transizione e quindi abbiamo mostrato i frutti del nostro lavoro oggi. Tre punti pesanti come il piombo, la tua rabbia si è vista in campo anche con una buona prestazione personale. Sì, però questa vittoria è meritata a tutti, abbiamo tutti giocato una bella partita, è stata una bella vittoria per la squadra, per il campionato questi tre punti valgono molto di più quindi siamo molto contenti e molto convinti che possiamo fare ancora meglio.